Sono Papa Francesco, ho ricevuto la sua lettera, grazie tanto di quello che sta facendo, previ per me. La prima volta Suor Angela non è riuscita a rispondere al telefono, due giorni dopo Francesco ha richiamato e hanno parlato. Sono anni che questa giovane suora dell'Ordo Virginum della Diocesi del Papa segue la formazione di giovani adulti dai 25-40 anni con un incontro mensile nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini a due passi da San Pietro. Tutto è iniziato con una cena. Dopo questa cena gli ho proposto che voleva fare tre incontri, tre ragioni e quindi si è formato proprio questo gruppo e l'ho chiamato Talitacum Alsaci. Chi viene in questo gruppo si deve veramente alzare e prendere la propria vita tra le mani. Io ormai sono nel percorso da tre anni, tre anni e mezzo e ho trovato dei fratelli, ho trovato anche Suor Angela che in questo periodo mi ha dato anche tanta forza. Cosa ha cambiato? Che mi ha fatto maturare maggiormente con una maggiore consapevolezza nel parlare di qualcuno al di sopra di noi al prossimo. Qualche giorno fa ha preso carta e penna e ha raccontato di questo gruppo al Papa, ha scritto proprio una lettera al Papa. Che cosa è accaduto poi dopo? Dopo questa lettera, così in breve tempo, dopo tre giorni neanche, il Papa mi ha chiamato, mi diceva che gli è piaciuta tantissimo la mia lettera perché già l'avevo raccontato quasi tutto. E poi mi diceva di pregare tanto per lui, per la chiesa. Mentre parlavamo, non so come spiegare, mi è venuta un'ispirazione che l'ho detto, santità. E vorrei, mi viene in mente di creare un gruppo di preghiera per lei. Mi ha detto brava, fallo davvero perché ho bisogno. Nasce così l'idea di un giorno al mese, a cominciare dal giovedì della settimana prossima, da dedicare alla preghiera secondo le intenzioni del Papa. Il nostro Papa Francesco chiede sempre, da quando ha cominciato il suo pontificato, di pregare per lui. Appuntamento allora sulla pagina Facebook Preghiamo Insieme per Papa Francesco, giovedì 13 agosto, quando sarà recitato il Rosario alle 21, non una data a caso. Il 13 dicembre è diventato sacerdote, il 13 marzo è diventato Papa. Allora ho detto, scegliamo un giorno al mese, il 13 di ogni mese, che è pure la Madonna di Fatima. Specialmente le più bisognose della tua misericordia.